Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati qui sul mio canale con questo mio nuovo episodio su Dragon Ball Z Kakarot. Allora nello scorso episodio abbiamo concluso la saga dei Saiyan. Ora amici miei proseguiremo con la storia, ovviamente adesso dovrebbe esserci la saga di Freezer quindi andiamo avanti. Vi invito prima di iniziare a lasciare un bel like al video ed inoltre se non siete ancora iscritti al canale vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Allora, dobbiamo sbagliato, recarci alla K-Mouse che è sblocato un po' di zone. Dicevo alla K-Mouse per vedere come stanno tutti. Allora, eccoci qua. E sono finito in acqua, va bene. Cosa c'è qua? Testo Sacro Prima di iniziare ad addestrare Goku e Krill, il maestro Muten ordina loro di portargli una bella ragazza. I due incontrano una ragazza di nome Lange che è in fuga dalla polizia e decidono di condurla alla K-Mouse. Il maestro Muten è molto soddisfatto di Lange, ma appena la fanciulla indossa l'uniforme della scuola della tartaruga accade qualcosa di incredibile. Lange, scusate starnutisce, è da gentile ed educata, diventa sboccata e manesca. Ok. Allora, parliamo col maestro Muten. Com'è? 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 Grazie a tutti. Ok, andiamo a cercarla. Vai verso West City. Allora, via cos'è? Allora, via cos'è? Allora, andiamo a cercare. 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 Ok, uno è andato, ne mancano due. No, mancato. Oh! 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 Niente, non sono riuscito ad eliminarlo. Ok, ne manca uno solo. Lo ha evitato, maledetto. Bravo! E' niente, eh? E' ok? Ah, sì! No, ma che cosa? Guardate me! Gakki no kse ni meちゃくちゃ tuei ja ne'e ka! Son Goku mi tei na yacu da na! Eh? Nande o tosan no koto shitté? Gokku no Gakki da to? Nara, nande oれ no jama shun da yo! Aizu la ha, oれ no daiju na tizu o nusumia datan da zo! Eee? Ho, hounto desu ka? E, eee to, sono... Eee ka-geen ni shiakare! Eee kore ijo shiakare kore teeru to dota ma uchi nukzo! Eee! Eee! S-susimase, teki gokoro datan desu! Eee! J-jaaa... A nata wa lanchi san ja nai desu ka? Eee? Eee? Lanchi wa oれ da! Eee! De... De... Aoi kami da te... Iroi lo zi johan da yo! Hora! Eee! 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 Ah, hai chato che ha detto che dove sempre36, è stato un figlio di Gukwu. Sperì, dà giorno. Ho raggiunto, è stato lonti. Ah, hai chato che studenti raggiungi sui? Tui hai chato di gara di gara, dove ho fatto con le persone. Ah, è stato un uomo noi. Ho portato un uomo, mi comporta delle forme che cambia dall'interno. come se il formato di coloro e? se... 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 ... 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Parla con Kiki. Quindi bisogna tornare a casa. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Ok, mi sono spostato un po', ok. Ci posso credere. Ok, mi sono spostato. 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 Ottimo. Ok, mi sono spostato. Ok, mi sono spostato. Ok, mi sono spostato. Ok, mi sono spostato. Ok. Ok, mi sono spostato. 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 Ok,Podesta raggiungi da stricte stcia. Ok, mi sono spostato. Grazie per la visione! 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 No, ok... E niente, si parla continuamente! Ok, uno è andato! Ma che caspita! Oh... 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 Ok, amici miei... Oh... 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 Oh...